Il Covid-19 si abbatte come un flagello su un territorio già duramente provato e che per questo vive una condizione del tutto particolare. Così scrive il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, in una lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte nel giorno dell'anniversario del terremoto dell'Aquila. Il sisma è una ferita ancora aperta per l'Abruzzo e la nazione intera, scrive Marsilio. Nella nostra regione sono due le ricostruzioni in corso. La prima a seguito del terremoto dell'Aquila, che è ancora da completare, soprattutto per la parte pubblica, che continua ad accumulare notevoli ritardi. La seconda è quella che riguarda il terremoto del centro Italia, che ad oggi stenta a decollare. Ed è per questo che il governatore si rivolge al presidente del Consiglio. Proposte emendative, scrive Marsilio, da inserire nel nuovo decreto che a breve sarà trasmesso alle Camere. Si tratta di misure finalizzate a garantire nuove assunzioni di personale negli uffici speciali e a semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione pubblica e privata sia per il sisma del 2009 sia per quello del 2016. L'accoglimento di queste proposte, sia pure dopo l'approvazione del decreto sblocca cantieri e del successivo decreto sisma, potrebbe rappresentare, conclude Marsilio, l'occasione per imprimere la svolta necessaria alla ricostruzione e a consentire l'immediata ripartenza quando sarà autorizzata la riapertura dei cantieri. Intanto Giovanni Lennini ha annunciato 26,8 milioni di euro per i comuni più piccoli del cratere sismico del centro Italia. Il commissario straordinario alla ricostruzione, nominato appena due mesi fa, ha firmato il decreto tramite cui sono destinate ai comuni, fino a 30.000 abitanti, risorse per un importo massimo di 200.000 euro per comune, da destinare sia alle opere urgenti e immediatamente canterabili, sia per interventi programmati o in corso di realizzazione. Potranno essere ammessi, ha sottolineato Lennini, anche investimenti per far fronte all'emergenza sanitaria in atto. Nel decreto inoltre si prevede anche il rimborso alle amministrazioni comunali dei mancati incassi delatari.